Ciao, sono Robin Good. Se sei anche tu papà, genitore di bambini fra 5 e 10 anni e credi nel poter cambiare le cose facendo passi concreti, creando esempi, modelli di quello che può essere un modo diverso di vivere e anche di apprendere, ti voglio segnalare che da oggi puoi dare una mano concreta, subito, tangibile a chi queste cose le sta facendo. Un mio studente nel Pop Campus che si chiama Raffaele Costi e del cui avrai forse già visto il sito Imparare Giocando e la sua pagina Facebook dove condivide quotidianamente giochi, risorse, consigli, video per poter apprendere di tutto, dalla matematica all'inglese all'arte alla musica attraverso il divertimento. Da oggi su appela.it è possibile dare una mano concreta e diventare membri fondatori di Imparare Giocando dando un contributo tangibile alla realizzazione dei primi 4 video ebook dedicati a come apprendere le tabelline, i calcoli aritmetici di base, l'inglese e le basi di programmazione. Se vuoi che anche i tuoi ragazzi possano apprendere divertendosi e mantenendo la testa aperta e non pronta soltanto a dire sì e a memorizzare, questa è l'occasione giusta per dare una mano a chi già sta tirando il carretto per cambiare le cose. Vai su appela.it, clicca su Esplora, scegli la sezione Formazione e cerca il visetto di una bambina simpatica con accanto scritto 4 video ebook per imparare giocando.